Ciao a tutti da Al Saludone, grandissima sorpresa, la balizia bellissima, Giulia Benilacqua. Bravo, non hai sbagliato il nome. Perché è male. Era divertente, ero stato più simpatico se vi si detto Giulia Michelin, l'amica. Non ho dormito, ho detto non mi devo sbagliare. Hai studiato. Esatto. Ciao, un bacio a tutti, grazie. Tutti i due pazienti, sì, sono ansissimi. Sì. E tu stai in social? Sì. Come stai? Come ti trovano? Su Instagram Giulia Bevi, Giulia Bevi, Bevi e poi su Facebook Giulia Bevi l'acqua. Perfetto, perciò sei tu. Quindi avrò un sacco di follower, mi stai dicendo. Ah, un interagio, ce n'hai tanto che non ce ne sono bisogno, perciò qualche chicca ce l'ho a dire per i miei fans, anticipazioni. Seguitemi sempre e le saprete. E le saprete, esatto. Visto. Ti ringrazio, un saluto a tutti di Al Saludone e Giulia Bevi l'acqua. E una sorpresa, perché la manina del Saludone. Ciao. A giornata di Al Saludone.